Oh, ti è andato giù! No! No, dai, dov'è? Perché cazzo stai? Dai, buttavo se tutti! Ma dai, ma sei il coglione, dai! Eccolo, eccolo, tranquillo! Hai trovato? Sì, sì. Ma che testa di cazzo che sei, oh! Ma io, sei tu, ti diventerò! Mamma mia! Now, say my name. Bella ragazzi, ed eccomi ora, sono GhostFracts! Finalmente, o finalmente no, boh, che ne so, su Minecraft, pazzesco, incredibile, assurdo, insieme ai gragnagnelli, salutate i gragnagnelli! Bella! E oggi siamo su un'isola, una nuova mappa, incredibilmente pazzesca, si chiama Isoland, probabilmente questa serie la chiamerò l'Isoland dei famosi, su Minecraft, un'idea mia, originale. Un'idea tua! Cosissimo, però... Cioè, sta Xenic che intanto sei bugato col cactus. Oh, povero Xenic che, oltre a bucarsi con le dosi di eroina, si buca con i cacti. Perché il plural di cactus, ricordiamo a tutti, che è cacti. 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 Comunque, ragazzi, le regole di questa isola le dirà il nostro bellissimo Daryl. Però prima di lasciare la parola a lui, vi dico subito, è strano, vero? Avete sentito questa intro sia sul mio canale, e anche, ma porco due questo stronzo, sia sul mio canale, sia sul canale dei Grananas. Perché il primo episodio, signori, andrà lo stesso episodio su tutti e due i canali, solamente che uno con la mia visuale e una con la visuale, ovviamente, di uno dei due, non so chi. Mia, mia. Un attimo solo, mi sono al citofono, vado a vedere chi può. Poi però da lì, dal secondo episodio, ci sarà solo sul mio, il terzo solo sul loro, e così via. Quindi vi lascerò qui in descrizione i link per passare nei loro canali, e nei prossimi episodi avrete ovviamente le annotazioni per passare nei video precedenti o successivi, quello che sarà, insomma. Ma possiamo subito partire, vero Daryl the Nuts? Spiegaci le regole. Yes. Bella vecchi trapani, comunque, anche, vorrei dire. Le regole sono queste. Welcome to the Isoland. Welcome to the Jungle? E non è una regola. Che cazzo sassi? Questi oggetti sono importanti, quindi usali sapientemente. Non spiegarli. Non spiegarli in malo modo. Che cazzo state facendo? Saltandosi in parere. Salta, 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 salta. Volete palletta e secchiello? No, vogliamo un secchiello e palletta. Vabbè, praticamente le regole sono non cittare, puoi fare tutto quello che vuoi, senza usare cheat, non possiamo andare nelle isole, se ci sono questi vicino. Ok, io già rubavo tutto quello che ce n'è. Porca troia, chi è che mi buttate sotto? Io ho preso tutto quello che c'è nella cesta. Dai! Inizio a rompere il legno. Aspetta, dobbiamo far prima la cosa. Mi passi la lava, così faccio il generatore de Cobberson. No, la lava non te la posso passare. Dai, passami il secchio qua, la lava. No. Ops. Dobbiamo far il generatore de Cobberson. No. Oh. Aspetta, aspetta. Fa bene, non per il legno. E tu, a basso, no? Sono per il legno, so far il legno, è la cosa primaria. Oh, ho lanciato per terra il lavetto de lava. Occhio che temerisci. Me lo lasci, ma te... No, scusa. Oh, intanto è cresciuto un altro cacti, incredibilmente. Ma te... Vabbè, comunque, fai una cosa. Leviamo sta cazzo de cesta. De cesta? Basta! De cesta, incredibile. Allora, io qua, vabbè, io fado affantato, vado a fare un buco per terra sotto. Ok. E proviamo, insomma, le miniere, le cose. Metti io là, ma te. Eh, che cazzo c'è là? C'hai te? No. L'albero qua. Ah, l'albero, sì. Perché gli alberi sono alti, alti, alti. Ma tu ce l'hai piccolina. Ah, fra, ma poi dà il coso che faccio al generatore. Che cosa? Il secchio. Te l'ho dato il secchio. No, l'hai ripreso te, perché Matteo ce l'ha tirato. Ma come me l'ha tirato? Sì, me l'ho sbagliato. Ma te levi da il cazzo che non salgo? Ah, te lo devo tirare a te? Sì. Ecco, lo sta qua. Quattro. Tieni. Dove... Perché mi entri dentro? Oh, ti è andato giù! No! No, dai, dov'è? Perché cazzo sta... Dai, buttavo se tutti. Ma dai, ma sei un coglione, dai! Eccolo, eccolo, tranquillo. Hai trovato? Sì, sì. Ma che testa de cazzo? Che sei, oh! Ma io, sei un coglione di terra! Mamma mia! Senti, ma è una cosa, ma dobbiamo anche espandere l'isola, immagino, vero? Quindi serve tanta terra. Eh, sì. Ma la terra, non lo so, ma in qualche modo la troviamo. Eh, ce l'ho la terra, ce l'ho 40 dei pezzi. Cazzo, mi sapevo sbagliato. Come il tuo solito. Oh, aspetta, ho beccato la prima... La cesta qua, una cosa. Eh, prendi la roba che c'è dentro. Vabbè, comunque io ho preso tutto quanto quello che c'era dentro, eh. Eh, dall'ammateuscia terra, se ci sta. Eh, un po' di terra ci sta, però tanto, tanto la faccio, perché distruggo la roba qua random. Più che altro è il legno che ci servirà tra poco, vedrete. Ma i semi ce l'abbiamo? Sì, sto mettendo tutto quanto dentro sta cosa che ho fatto. Eh, dobbiamo fare una faccia. Mi dai... Cominci a prendere la pietra? Sì, bravo. De Cristo a zi fa una gamba. Ok, è a posto. La io comincio a fare qualcosa, eh. Tipo una graffi di table. Fammi un piccone, per favore. Adesso. Eh, il legno l'hai preso te? Sì, l'ho preso io. Eh, fammi... No, il piccone fammelo a me, che io sto a fare tutta la roba qua sotto. Eh, pure io, perché devo via la pietra. Ah, fai la cobblestone. Yes. Ah, ma cazzo, ma già c'è stava questa. Eh, ma sì, testa di cazzo, l'ho fatta apposta, coglione. Eh, vabbè, sciallo. Mi dai il legno? Dov'è il mio legno? Se lo sto a facer... Un piccone! Ok, c'abbiamo... Oh, dovete staccarmi, eh. Oh, c'abbiamo l'albero bianco, facciamo l'albero bianco. Mi dai il legno! È finito il legno. Come è finito il legno? Ci ho fatti i picconi. È finito il vino. Porco due, che beota di merda. Ma no! Non c'è più il legno. Perché si è creato l'ossidiano? No, porco due. Cioè, dammi un motivo logico per cosa è creato l'ossidiano. Ma vabbè, no, ma sti cazzi. Dai, tanto giù la troviamo la cosa, la cobblestone. Facciamo espandere il verde, no? Eh, niente. Fino a che non cresce l'albero non possiamo fare un cazzo. No, vado io giù in miniera. Dai, su, vado a raccogliere un po' di roba. Vengo con te. Dobbiamo creare una miniera. Questo è l'obiettivo. Ma ti levita il cazzo! Ma te, pia dell'erba, pia della terra... Pia della terra e spandi, no? Ne sto rompendo altra qua di terra che devo andare a cercare la pietra. Perché non abbiamo più un generatore di cobblestone. Picc'altro spero che arrivi un giorno questa pietra. Perché sono andato giù abbastanza e non c'è nulla. Ciao. Ciao mamma, sono su Minecraft. Tetto creeper! Ma non è vero. Sai te che sei un testa di cazzo. Oh, ma non c'è niente qua sotto, eh. Porca puttana, porca. Guarda quanto sta manna giù. Cioè, se tipo guardi sopra te spaventi, mi sa. Eh, non puoi perché... Non si vede niente. Oh, eccola. C'è la cosa. Qua c'è la pietra. Sotto la sabbia c'è la pietra. Oh, buono, c'è sta l'albero. Davvero? Sì. Più a cosa allora. Io tanto qua spacco, c'ho un po' di cobblestone, eh. Però dovremmo trovare il carbone prima o poi. Che palle. Eh, c'è un piccolo problemino. Ossia? Che problema. Oddio, oddio! Oddio! È cascata tutta l'acqua, c'è un buco, c'è una falla. È quello il piccolo problema. Ma l'hai fatto te? Per spaventi. No, ma te, ma te, io muoio, c'ho tutta la roba. Arrivo, arrivo, arrivo. Eh, cioè... Copri il buco! Eh, lo sto facendo! Non è vero, sto morendo! Ho fatto, ho fatto, ho fatto, ho fatto, ho fatto. Sei coglione! No, l'ho fatto tu. Sto morendo, ancora c'è l'acqua qua, non si ne va più. Non si ne va. Hai spento tutte le torce, non c'abbiamo più torce, ma te. Colco 2. Pensai che se ci stava era meglio. Cioè, sei un deficiente proprio. Ma non l'ho fatto apposta! L'hai fatto di proposito, che è ben diverso. Eh, ma sì. Ecco. Madonna mia! Ma tu un'allezzo. Regà ha fatto un po' di legno. Mi porti la pietra? No. Che ti sei cura. Ok, mi sei rotto il coso qua. Cioè, io non ci posso credere che già abbiamo perso la lava. Senti, non abbiamo fatto nulla. È colpa di Mateus. Eh, appunto. Ma che c'entro io? Con la lava? Ah no, però che la lava non c'entra niente. No, c'entra che la lava invece. Allora, vuole i fatti, no? Infatti, sai che ti sei preso il secchio, mannaggia? Sai che sei morto dentro la lava perché non sei buono. Allora, eh, mi devi dare. Guarda che ti regalo. Eh, bravo, dammi il legno. Bravo, grande, bomber. Io mi prendo la pietra, eh. Bomber indiscusso. Cioè, adesso abbiamo l'Ossidiana, ma possiamo togliere noi da qua, lo sai? Eh, vabbè, rimane la bellezza. Dai, ma sti cazzi. Piantaci l'alberello. Eh, mi faccio pure un po' di torce. Il cactus, aspetta, oh, rompemolo, quindi piantano altri. Eh, piantati, però basta che non rompi cactus. Allora. No, non mi è andato giù. Cosa è andato giù? Il cactus. Ma davvero? Scusa, ma cosa stai facendo, ma te? Sto cercando di mettere solo terra, super. Ok, e leva pure questa roba qua, però. Eh, sì, levo tutto. Bravo. Perché qua c'è un pezzo di cobblestone e non ti piaceva? Eh, sì, mi sto sbagliando. Ah, ma è il buco di prima? No, 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 no. Oh, porca puttana, ho fatto pieno colpo. Vabbè, comunque, raga, vado a prendere altra roba. Vabbè, ragazzi, diciamo che come primo episodio può finire qui. Vi ricordo di lasciare un mi piace e di passare sul canale dei Granas, o se siete sul canale dei Granas, di passare dal mio. Ci vediamo sul mio canale prossimamente, penso veramente, o domani già stesso, o tra un paio di giorni così, con il secondo episodio sul mio canale. E poi vi ricordo che il testo sarà su loro e bla 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 bla. Ottimo, di tutto, ci sentiamo al prossimo video. Bella! Yo! Ciao!